L'Oligra è un'azienda alimentare che si dedica alla lavorazione e alla trasformazione degli oli grassi vegetali, margarine, cioccolato, surrogato e anche creme vegetali. Tutti i prodotti che sono destinati al settore dolciario, in particolare questa fiera che è per gli ingredienti, ingredienti per le industrie che sono nel settore del food and beverage, per Unigra è indispensabile essere presenti. Questo ci permette di venire a contatto con il cliente o il potenziale cliente e riuscire a mettere a disposizione tutto il know-how di Unigra e i prodotti che possiamo offrire sul mercato. I prodotti che Unigra fornisce sono prodotti plant-based, studiati nel rispetto della qualità e sicurezza alimentare, ovviamente, ma anche con un'attenzione particolare nel avere un prodotto il più sostenibile possibile. Abbiamo predisposto questo corner dove il cliente può direttamente andare a interrogare il sistema al fine di ottenere informazioni sia sull'ingredientistica, le certificazioni, ma anche appunto sulla sostenibilità che il nostro prodotto porta con sé. Andiamo a presentare sia una materia prima come l'olio, cioccolato, un semilavorato e anche un prodotto finito. Tutti i prodotti plant-based e anche il tiramisù vegetale è completamente ricettato con gli ingredienti di Unigra. Unigra è nata nel 1972, quindi conta già 50 anni di storia e di esperienza. È stata fondata dal signor Luciano Martini, che è l'attuale presidente, e il gruppo ad oggi è guidato dall'amministratore delegato Gian Maria Martini, il figlio. Unigra quindi è presente in 105 paesi con 26 consociate e una rete di distribuzione molto capillare. Conta circa 1200 dipendenti e abbiamo un fattore annuo di oltre un miliardo. Unigra nasce con la produzione e la trasformazione di grassi animali, ma la lungimiranza della famiglia Martini, che è sempre stata molto attenta alle richieste del mercato, ha portato anche all'introduzione della lavorazione di grassi vegetali, questo fin dagli anni 1980. Ovviamente questo trend è sempre stato in crescita e ha permesso una conversione totale dell'azienda e ad oggi ci consideriamo una vera azienda 100% plant-based. Questa attività di messa a punto delle varie ricette viene svolta da un dipartimento, quello della ricerca e sviluppo, che conta circa 20 tecnici dedicati alla formulazione, alla ricettazione di questi prodotti. Siamo suddivisi per le varie categorie di prodotto, questo per permetterci di avere quindi la maggiore esperienza sia sul processo di produzione che sulla scelta dell'ingrediente da utilizzare. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo ha a disposizione diversi impianti pilota che permettono di svolgere delle prove quotidiane per la messa a punto delle varie formulazioni. Inoltre questi tecnici sono anche a disposizione del cliente perché molto spesso ci troviamo a formulare o sviluppare prodotti che sono delle soluzioni per il cliente e tutto questo avviene tramite una collaborazione stretta fra cliente e fornitore. Alla base di questa ricerca applicata esiste anche una ricerca più di innovazione che viene svolta con delle strette collaborazioni con le università, sia l'Università di Bologna che è appunto nel nostro territorio, ma anche con altre università, non solo italiane ma anche estere. Tutto questo lo facciamo perché siamo sempre alla ricerca di individuare le persone più adatte e più esperte per quello che sono i nostri obiettivi futuri.